E una, due... Bene, arrivate. Solo il custode. E io sono Shelly. Tony! Bella la maschera. È un ragazzo molto delicato e deve riguardarsi. Tu hai questo dono speciale e vivi dentro casa legato a una corda. Vieni, ti faccio vedere. Forti. È una torcia magica. Dai, Shelly! In casa. No! Perché è così buio questo palazzo? Quello in cui abitiamo è un edificio che risale a tanto tempo fa. Cosa potrebbe essere quello spirito? Per me la tua luce è davvero speciale, Tony. Oh! Yeah!